Tra i momenti di punta del primo fine settimana di Garfagnana Terra Unica, senza dubbio anche la consegna dei premi alla memoria di Enzo Pedreschi e del premio speciale alla memoria di Andrea Bertucci. Una bella idea della condotta Slow Food della Valle del Cerchio Garfagnana, realizzata dall'amministrazione comunale di Castelnuovo. Obiettivo? Valorizzare le eccellenze del territorio. Il premio Enzo Pedreschi è un premio storico che viene dato a un produttore, a chi ha divulgato il territorio, oltre anche alla Garfagnana, con la propria attività. Il premio anche Andrea Bertucci è risvolto invece a un giovane custode prodotto tipico. Il premio Pedreschi alla presenza dei fratelli Dino e Gabriele è stato assegnato a Stefano Bresciani per aver scelto di continuare a lavorare all'Alpe di Sant'Antonio e ad Alessandro Bertolini per l'operazione di recupero di terreni incolti, coltivati a grani antichi, in quel di Cascio. Sono molto orgoglioso e emozionato di questo riconoscimento, però come ho detto ai miei paesani, ai miei amici, a tutti quelli che mi sono stati vicino da una vita, che il premio lo voglio condividere con tutti. Io sono molto orgoglioso di aver ricevuto questo premio, non credo sia per me, ma per tutti quelli che come me combattono per cercare di mantenere il territorio il più vivo possibile. Tanta commozione al momento della consegna del premio Andrea Bertucci, consegnato dalla sorella Cinzia Stefano Bertolini di Giuncognano per la sua attività agricola. La memoria dell'Andreone che è stato un grande rappresentante da Garfagnana sulla tradizione e mi fa estremamente piacere continuare la sua memoria sul nostro territorio.